Nelle prime ore della mattinata di ieri, gli agenti del commissariato di Andria hanno tratto in arresto Michele Lovergine, classe 1987, nato a Trani, ma residente ad Andria. L'applicazione della misura cautelare in carcere si riferisce ai fatti verificatesi ad Andria tra il mese di gennaio 2011 e il mese di luglio 2013. Allo stesso è stato contestato il reato di associazione finalizzata alla detenzione allo spaccio di sostanze stupefacenti. Una lunga e complessa attività di indagine ha consentito di individuare un sodalizio che operava in forma organizzata nella città di Andria ed intorni e che ha portato all'emissione di numerose ordinanze già eseguite. La consorteria criminale, della quale facevano parte anche diversi soggetti minorenni, mediante un articolato sistema di vedette deputate al controllo del territorio, riusciva a gestire un'importante attività di cessione di sostanze stupefacenti sino alla creazione di un vero e proprio market della droga. Il 29enne è stato ristretto presso la casa circondariale di Trani.